dopo mesi di trattative e indiscrezioni finalmente l'MLB si è decisa ci sarà una stagione di baseball nel 2020 negli Stati Uniti io sono veramente felice di fare questo video perché finalmente torniamo a parlare di baseball dopo tre mesi di attesa sul mio canale dopo mesi di trattative, indiscrezioni, minacce da parte dell'associazione giocatori finalmente l'MLB si è decisa ci sarà una stagione nel 2020, una stagione regolare sarà di 60 partite, una mini stagione che partirà a luglio però è già un passo avanti rispetto ai tanti rifiuti che sono stati fatti da parte dell'associazione giocatore ci sono state veramente tante trattative, tante indiscrezioni e tanti rifiuti ovviamente dal sindacato giocatori capitato da Tony Clark, l'oggetto del contendere era prevalentemente un motivo economico sul guadagno ovviamente dei giocatori che ovviamente con questa pandemia e lo stop forzato si vedranno ridurre il monte stipendi il problema non era semplicemente però per i giocatori superstar, mettiamoli così, dell'MLB ma c'è tutta una serie di giocatori che sono delle minor league o pensiamo anche ai giocatori al minimo salariale che con questo stop evidentemente rischiano di vedere compromessi i loro contratti dal punto di vista economico la proposta della Lega ha toccato anche questo punto che lo andiamo a vedere subito nei quick facts di ESPN che ci dà una mano in quest'articolo dunque la stagione sarà di 60 partite, stagione regolare ovviamente si partirà a fine luglio, il 24 dovrebbe essere la data corretta ci sarà un allenamento, la prestagione dal primo luglio fino ovviamente al 23-24 10 squadre ai playoff e la struttura del salario sarà fatta in modo che i giocatori possano guadagnare una cifra approssimativa intorno al 37% del loro monte stipendi però proporzionato alla lunghezza della stagione regolare normale la stagione regolare in condizioni normali della MLB è di 162 partite su 60 partite è stato calcolato un guadagno appunto del 37% il che vuol dire che se un giocatore guadagna 100 per 60 partite guadagnerà 37 questa è la imposizione della Lega, le trattative ci sono state tra appunto la MLB capitanata da Rob Manfred che è il commissioner e la MLBPA che appunto è la player association capitanata da Tony Clark la MLB rischiava di fare veramente una figura molto grama, essere onesto perché i giocatori volevano spingere per una mera questione economica parliamoci chiaro e si stavano anche diciamo scannando le due controparti sul numero delle partite la Lega avrebbe voluto impostare una stagione di 50 partite che sarebbe stata ovviamente una farsa i giocatori puntavano anche a giocarne un po' di più ma guadagnando ovviamente di più tenendo conto anche degli aspetti che vi ho detto prima quindi per esempio i giocatori al minimo salariale o i giocatori delle minor league che ovviamente non guadagnano come quelli della MLB dopo mesi di trattative, indiscrezioni, litigi e quant'altro l'accordo ci dovrebbe essere dovrà essere firmato entro oggi alle 17 orario americano ma come vedremo poi dopo all'articolo di ESPN dirà a meno che non ci sia uno sciopero dei giocatori come nel 1994 anno in cui io sono nato tra l'altro la stagione 2020 si farà è una notizia che sta circolando ormai dalla notte americana dalla mattina italiana e dunque è giusto parlarne anche in questo video al di là di queste mere discussioni economiche andiamo a vedere quelle che sono le direttive e i protocolli di questa stagione Lampo 2020 già l'incognita che pone ESPN è importante la vediamo qui come si dovrà gestire una stagione di 60 partite e la stagione di 60 partite si giustirà ovviamente molto con tanta parsimonia e tanta cautela nel senso che se per esempio capita un infortunio che costringe un giocatore a essere fuori squadra ad essere messo in lista infortuni anche per 4-8 settimane è evidente che un infortunio di questo tipo in una stagione di 60 partite andrà a compromettere la stagione del suddetto giocatore ed è sicuramente un punto importante sul quale bisogna fare attenzione altro punto focale è il protocollo e anche il regolamento nel senso che il regolamento imporrà un battitore disegnato universale per questo 2020 non ovviamente nel 2021 e questo va un po' a cambiare il regolamento della Lega nel senso che per chi non conosce il gioco del baseball sappia che ci sono due conference per usare un termine cestistico e okistico la National League è una Lega una conference l'American League è l'altra nella National League va a battere anche il lanciatore che è il nono giocatore di movimento che si schiera ovviamente in difesa nella squadra lanciatore che non va a battere nell'altra Lega nell'American League viene sostituito da un altro battitore che sostituisce appunto il lanciatore in attacco e dunque nell'American League di fatto il lanciatore dovrà soltanto occuparsi della parte difensiva si fa per dire in questo caso il battitore disegnato viene implementato dovunque quindi un po' come succede anche in Italia dove non va a battere il lanciatore e la cosa importante è che dovranno essere rispettate determinate regole sanitarie e per quanto riguarda il protocollo protocollo che appunto andiamo a vederlo rapidamente sono proibiti gli high fives sono proibiti gli abbracci sono proibiti lo sputare il mangiare tabacco o chewing gum o qualunque cosa che viene fatta durante lo stag nel dugout deve esserci ovviamente una distanza di sicurezza da rispettare qui viene data una distanza di 6 piedi che per la cronica sono un metro e ottanta se una palla è toccata da più giocatori verrà messa fuori campo e lasciata da parte ovviamente per evitare che anche la pallina sia un mezzo di eventuale contagio del virus altra cosa fondamentale del protocollo è che tutti i giocatori dovranno essere di fatto controllati soprattutto dal punto di vista sanitario e qui lo dice ESPN che i giocatori dovranno di fatto essere controllati per provare la febbre tante volte al giorno e appunto fare anche i test per il coronavirus tante volte alla settimana ovviamente di conseguenza bisogna garantire come sta succedendo nel calcio che i giocatori siano controllati tantissimo e che siano ovviamente tutti negativi in modo che la stagione possa cominciare senza rischi di eventuali focolai se ci fosse un giocatore positivo il giocatore stesso verrebbe messo in quarantena per poter essere abilitati a giocare e tornare eventualmente da questo infortunio se così si può chiamare basteranno due tamponi negativi una volta che il giocatore è stato messo in quarantena quindi anche il protocollo dal punto di vista sanitario è stato approvato ed è sicuramente un passo avanti dopo veramente mesi di attesa l'MLB veramente ci stava facendo una figura molto barbina essere onesto perché col fatto che ci sono state tante frizioni tra due controparti ovvero la Lega e l'associazione di giocatori che sono parti che di fatto si detestano la MLB 2020 rischiava di non essere neanche ai nastri di partenza quando altri sport più di contatto vedi per esempio l'Hockey su ghiaccio o per esempio la NBA che ripartiranno anche loro a fine luglio avevano già trovato comunque un accordo ecco non avere lo sport che dei tre è il meno di contatto in assoluto avrebbe sicuramente rovinato tantissimo l'immagine dell'MLB attenzione però che le trattative e i litigi potrebbero non finire perché ovviamente nel 2021 scadrà il contratto collettivo dei giocatori e dunque attenzione perché la associazione dei giocatori potrebbe tornare ovviamente a fare la voce grossa e ovviamente a come dire fare ancora frizioni fare ancora litigi nei confronti della Lega e attenzione che tutto questo casino mediatico non sia soltanto rimandato fatto sta che noi ci concentreremo a parlare sul baseball giocato quindi teniamo d'occhio la data del 24 luglio si può parlare anche in realtà del 26 comunque la settimana intorno al 24 di luglio per l'inizio di questa stagione lampo del 2020 per la MLB un ulteriore aspetto prima di parlare poi del baseball italiano era il numero di squadre playoff alla fine si è deciso di tenere le 10 squadre canoniche nella postseason ed è una delle poche cose che non è cambiata rispetto alla normalità alcune voci parlavano addirittura di 16 squadre playoff quindi playoff allargati alla fine si è deciso di tenere il format normale quindi con lo spareggio del wildcard game e poi ovviamente il tabellone canonico della postseason quindi paradossalmente ci potrebbero essere nel complesso più partite di postseason rispetto alla pariata della stagione regolare però ripeto è già tanto rispetto all'inizio che veramente la stagione MB rischiava non dico di non esserci ma quasi che 60 partite si sono state messe assieme e dunque aspetteremo un mese più o meno per l'apertura della stagione regolare del baseball americano e ovviamente torneranno le approfondimenti mensili sul mio canale finita la parentesi se così si può chiamare sul baseball americano parliamo del baseball italiano perché anche nel nostro paese il campionato dovrebbe cominciare non però a luglio ma con l'ultima riunione federale che si è svolta ieri dovrebbe partire verso agosto c'è stata ieri dicevo la riunione del consiglio federale il titolo di fibs.it titola fumata grigia per la 1 baseball 2020 la fibs ha per il momento protocollato i campionati signores quindi tanto per intenderci serie 1 serie 2 le giovanili tutte le altre attività per esempio l'amatoriale come la mia non è stata il momento protocollata però quello che è importante è che intanto possono partire le squadre del campionato di serie A tra l'altro erano 9 le società iscritte al campionato di serie 1 originariamente in realtà erano 10 si è ritirato il team di Redi Puglia i Rangers in realtà è notizia sempre di ieri ci sarà il ritiro della squadra di Torino che era stata ammessa alla serie 1 per questa A1 di Baseball a 10 squadre il ritiro della squadra torinese è di fatto una notizia ufficiale e dunque saranno già 8 le squadre che dovrebbero cominciare la stagione il condizionale però è d'obbligo perché in questo caso altre due squadre hanno richiesto di prendere qualche giorno di tempo per dare la iscrizione definitiva per appunto concludere delle trattative con gli sponsor il calendario comunque dovrebbe essere questo si inizierebbe a metà agosto si concluderebbe la stagione regolare a metà settembre ovviamente la struttura sarebbe di due gironi incrociati con quattro squadre nel girone A e quattro squadre nel girone B con appunto semifinali incrociate per quanto riguarda i playoff che dovrebbero cominciare il 18 di settembre immagino che sarà prima del girone A contro il secondo del girone B e prima del girone B contro il secondo del girone A e la finale scudetto nella ovviamente settimana delle primi di ottobre tutte le serie di playoff sono previste al meglio delle cinque partite con appunto giornate di gara venerdì sabato martedì e ovviamente in caso di eventualmente gara 4 e gara 5 il mercoledì e il venerdì ovviamente aspettiamo l'ufficializzazione del nuovo consiglio che ufficializzerà anche la stagione del baseball italiano 2020 vi ricordo che il campione in carica è Bologna che ha battuto al meglio delle cinque partite San Marino serie stravinta da Bologna 3 a 0 dopo aver battuto il mio Parma 3 a 2 in una serie di semifinale veramente molto bella speriamo che anche il baseball italiano possa ricominciare a metà agosto qui c'è stato già comunque vi dicevo un protocollo federale non c'è stato per la mia attività che è l'attività amatoriale io gioco a softball la disciplina e lo slow pitch però lì dipende anche da quello che dice ovviamente lo stato e di conseguenza anche il consiglio federale visto che la mia attività seppur amatoriale è correlata alla federazione italiana però anche noi dovremmo cominciare noi dello slow pitch intendo ovviamente a fine agosto e chissà che anche noi non possiamo fare il nostro campionato provinciale amatoriale detto questo possiamo chiudere qui il video con la mia parentesi personale fatemi sapere cosa ne pensate per quanto riguarda la stagione MLB se potrà partire in sicurezza e chi potrebbe essere secondo voi il favorito della stagione Lampo 2020 e ovviamente se seguite anche il baseball italiano chi potrebbe essere ovviamente il favorito del baseball italiano il saluto da parte di me di Torg e qui ci vediamo presto un prossimo video e qui ci vediamo Grazie a tutti.